Ancora un volto nuovo in casa, atletico Paolo VI, un altro tecnico che non ha certamente bisogno di presentazioni per la società del presidente Mimori Catti che ha scelto di affidare la panchina ad un ex bomber di comprovata esperienza. Stiamo parlando di Ciccio Decomite, indimenticato eroe della cavalcata che portò il Massafra in Serie D e che da oggi siederà sulla panchina della formazione giovanissimi della compagine Rosso-Blu. In compagnia di mister Francesco Decomite, ultimo arrivato in casa SD Paolo VI, che quest'anno avrà una grossa responsabilità quella di guidare il gruppo dei giovanissimi. Allora, prime impressioni di questa nuova avventura e che cosa ci aspettiamo da quest'annata? Niente, io spero che l'annata dovrebbe andare bene, perché? Perché un giorno che ho conosciuto questi ragazzi, sono tutti ragazzi che si impegnano, sono educati. Poi la prima cosa è divertirsi, il resto pian piano aggiusteremo sicuramente, migliorerò pure io. Io spero di fare bene. Che ambiente hai trovato? Insomma, qui è una grande famiglia, quella della SD Paolo VI, un'istituzione sul territorio? Eh sì, Paolo VI è sempre Paolo VI. Paolo VI è una grande famiglia, è vero, hai detto la cosa giusta, anche perché la maggior parte sono tutti amici. E poi quando lavori con i figli degli amici è ancora più bello, perché è come una famiglia veramente. Mister De Comito, tu porti in dote un numero impressionante di gol realizzato nelle categorie calcistiche in tutta Puglia. Che cosa c'è da insegnare agli attaccanti di domani? Io spero di imparare di parecchio, dai. Io credo che con una cosa all'anno che abbiamo imparato, in 25 anni di calcio, 25 cose, imparerò sicuramente ai bambini.